Allora ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now, continuiamo i gameplay di Kamio, Elements of Power, dunque siamo ritornati alla foresta dimenticata, perché dobbiamo raggiungere un nuovo punto, lo stagno degli occhi e recuperare l'ultimo guerriero elementale che ci manca nel whatnot, e sarebbe il secondo e ultimo guerriero elementale del fuoco dopo il ceneritore. Abbiamo ottenuto rampi, un'altra pianta come carni, ma questa è più cattiva, si vede, che cazzo bella. Pianta, cosa fa? Tremore? Tremore lancia delle radici, vediamo i potenziamenti. Radici in moto, cos'è? L'aggiornamento radici in moto aumenta, notevolmente la distanza che un attacco tra remore di radici può coprire prima di esavirsi. Non pisce più lontano e restarsene al suo... Ciavolo, ciavolo. Brinco. Ah, ne alcia quattro. Così può coprire più distanza. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua? No. Di qua, invece. Ah! Avevamo tralasciato quest'aria l'ultima volta. Da scoprire. No, dove c'è qua? Un mercatino? Un lago? Non provare neanche a pensare di entrare in questa capanna. È infestata di scarafaggi e è abitata da alcuni strani tipi del luogo. Begliamo. Devi fare qualcosa per aiutarti. E possiamo risolverlo. La mia capanna è invasata a orribili, rifugnanti scarafaggi. Ti scongiuro, fa qualcosa. Begliamo. Perciò che c'è la carne? Eh, bastava il fuoco, bastava. La riva del lago? Cioè, di là? Qua che c'è? La caverna. Oh, orto. Il guerriero addestratore. Ehi, forse puoi aiutarci. Stiamo cercando di raggiungere lo stagno degli orchi. Mmm, mi dice qualcosa. Sono sicuro che conoscevo una strada per... Mmm, non riesco a ricordare. La memoria mi tradisce. Beh, non abbiamo tempo di rinfrescare la tua memoria avariata, credo. Laggiù c'è un jukebox che i clienti possono usare di sera. Se metti la mia canzone preferita, quella che mi ricorda dei tempi andati, sono sicuro che mi aiuterà a ricordare. Buon Dio. Beh, Camille, se vogliamo trovare lo stagno degli orchi, immagino che dovremmo costringerlo. Oh, mi fanno male i piedi. Mi sento così sola. La mia amica Dile è intrappolata nella sua capanna con un'orda di troll e non posso fare niente per salvarla. È una buona idea. La tua presenza non ha niente a che vedere con il ritorno dei nostri figli. Torna pure a trovarci tutte le volte che vuoi. Occhio, capo. Jukebox. Ah, ora ricordo. Queste minuscole creature vi aiuteranno a entrare nello stagno degli orchi. Buona fortuna. Che sostenere. Buona giornata a te. Eh, come c'è? Mi hai visto? Viicino alla porta... Viiiicino alla porta dello stagno degli orchi ci sono le tarturocce. Prendine alcune usando tecnica zanna di lampi. Quindi usa la tecnica pianta per radicarti al suolo e inizia ad ondolarti per darti un po' di slancio. Lancia le tarturocce, si andranno ad attaccare al versaglio. A questo punto puoi farle saltare in aria con le lance di ghiacciolo. Ma sono sicuro che Rampi riuscirà a scagliarmi sul versaglio, se mi eri con attenzione. Non correre così forte, serenissima! Accidenti! Ora tocca a me! Facciamo meno rumore! Le tarturocce sono esplosive, quindi se urtano con troppa violenza potrebbero detonare. Perfetto, accediamo allo stagno. Eccolo! L'ultimo troll d'ombra! Ezz, mi pareva che è bloccato in qualche modo. Ma dobbiamo tappare... Oh cazzo! Quando avrai salvato Termi dal troll d'ombra, il libro del whatnot starà finalmente pieno. E il tuo potere... Ok. Vediamo fare... C'è un bozzolo qua da prendere. Sugli alberi qui intorno crescono dei frutti tappo, proprio quello che ci vuole per tappare i getti di vapore. Forse puoi servirti dall'orco per farli cadere? Perfetto... Perfetto. Perfetto! Grazie a tutti Sembra disorientata Perché non forse un di morto? Oh via Aspettate che si chiuda Eccolo qua Eccolo? No Ma che ragazzo lo abbiamo mostrato? Sparito, vaffanculo! Ah! Ah! Distortive, abast. Si è chiuso Che pa... Ma che è che non sente? C'è un roccio la minchia stimmiglia Sì Sì No sta? No sta? Sì ma sei l'impedito però Cristo Santo No sta? 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 No? No sta? No sta? No sta? No sta? No sta? No sta? No? No sta? 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 No? No sta? No sta? No sta? No? 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 No?